Sì, buongiorno, salve. Avrei un problema con un interruttore che scatta continuamente. C'è un tastino sopra per fare una prova, un tastino. Continua a scattare, può venire lei a vedere? Sì, certo. Vuoi un idraulico, un elettricista, un riparatore subito a casa tua ma non vuoi spendere tanto? Allora chiama OK Casa. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i festivi, sabato e domenica e le feste comandate. È un numero unico, lo dico, è il 199201816, ripeto, 199201816, al quale il cliente si rivolge. La popolazione chiedeva interventi di urgenza per delle problematiche che erano in casa, nelle loro abitazioni. E questo per mandare persone qualificate dando un prodotto all'altezza senza essere nemmeno tirati in ballo con prezzi esosi o problematiche di gestione successive. Per noi il servizio che è in casa di pronto interventi è anche una risposta ad altre funzioni che svolgiamo come appunto istituzione, quale quella del controllo della dinamica dei prezzi di bene e di servizi. Infatti, nell'ambito di questa funzione che viene ricordata con Mr. Prezzi, abbiamo avuto molte segnalazioni proprio inerenti ai servizi di riparazioni presso le abitazioni. Quindi questo servizio di ok casa che abbiamo potuto realizzare grazie appunto alla collaborazione delle associazioni e delle imprese, ci permette di offrire appunto su tutto il territorio del Comune di Firenze un servizio di riparazioni sicuro, qualificato e senza sorprese. La forza di questo servizio sta nella mancanza del diritto di chiamata. Le categorie economiche con i consumatori hanno stabilito anche una tariffa massima applicabile per questi tipi di intervento che nasce da quelle che sono le tariffe della mano d'opera pubblicate annualmente sul prezzario delle opere eredili ed impiantistiche della Camera di Commercio. Il sistema è basato su un software abbastanza complesso, è il primo in Italia. Questo servizio, ormai collaudato da alcuni mesi, permette di mettere in comunicazione senza la necessità di avere un operatore tradizionale, un cittadino con un'impresa del servizio alla casa.